Torna in scena la disperazione stamani a Palermo. Alcune centinaia di metalmeccanici provenienti dalla città, da Catania e da Messina, si sono dati appuntamento in piazza Indipendenza. Sono circa 2000 i lavoratori del settore rimasti esclusi dalla cassa integrazione in deroga concessa ad altre categorie e che adesso si vuole ampliare anche alla GESIP. I manifestanti aderenti a tutte le sigle sindacali sono esasperati. Hanno ricevuto il pagamento della cassa integrazione dello scorso anno in enorme ritardo e adesso rischiano di restare fuori da tutto. Per essere ricevuti a Palazzo d'Orleans hanno bloccato il traffico in piazza Indipendenza. Poi una delegazione è stata ascoltata dal capo di gabinetto del presidente ma i manifestanti restano scettici. Ci hanno ricevuto dei passacarta, come si suol dire, passacarta, che non sono degni di stare nelle proprie scrivanie perché si scaricano a barile, fanno scarica a barile l'uno con l'altro. È una presa in giro che fanno ogni volta che noi veniamo qua, è tutta una presa in giro. Ora che cosa fanno con queste presa in giro? Fanno passare dal tempo. Io non so dove dobbiamo arrivare. Noi abbiamo pagato sempre contributi, abbiamo pagato la qualsiasi, ma ora così buttarci in mezzo alla strada un momento all'altro non può essere. Con la crisi che c'è, guarda, allora non ci vogliono dare la mobilità, non ci vogliono accortare, almeno dateci un lavoro, dateci un sussidio, non ne vogliamo noi, non vogliamo sussidio, vogliamo soltanto lavoro e basta. Non ci possono buttare così. Noi siamo degli operati specializzati, abbiamo più di 25-30 anni di lavoro sulle spalle. Noi abbiamo anche degli handicappati che hanno continuato sempre a lavorare perché hanno l'onore di lavorare. Noi non vogliamo il sussidio. Noi ci hanno proprio scartati, ci hanno buttati nel senso della parola, nell'imbondizia.